ciao sono roberta vengo da milano è la prima volta in algeria un paese meraviglioso ciao asim sono filippe sono anch'io di milano anche se in verità sono belga e grazie a te che abbiamo scoperto questo posto straordinario e questo grande gentiluomo che la nostra guida siamo sulle dune sopra timimum ecco adesso facciamo vedere lo scorcio ecco adesso stiamo anche preparando il tè sopra le dune ciao asim